Ristorante Expa, sul lago di Piana degli Albanesi, a circa 100 metri dalla diga. Siamo aperti dal mercoledì alla domenica con un ricco menù di carne, o a richiesta anche di pesce. Il locale dispone di ampi spazi esterni ed è quindi ideale anche per i vostri ricevimenti, banchetti, feste di compleanno, lauree e quant'altro. Si effettua anche servizio catering. Seguiteci anche su Facebook e Twitter per info 091 857 17 09 oppure 328 08 22 789.